Eccoci a un nuovo video un po' inutile Nel nostro canale Che bella premessa Sì, perché abbiamo trovato al Combini, al 7-Eleven Nei cioccolatini spusi e i gusti Special Co-Tirol-Coyo Ti-Tirol-Coyo Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Coconut milk e yogurt Yogurt e noce di coca E latte di noce di coca Però sul disegno sembra che ci sia del miele Con disegnati dei kiwi sopra Mentre questo è al waffle cone Sopra c'è scritto waffle cone Ma sotto c'è scritto ciocomento Vabbè al cono Il classico after eight Il cono di after eight Buono, mi piace Questo anno mi sembra 34 yen Più le tasse Quindi sono 25 centesimi l'uno Non è poco, però è un quadretto Alla fine, anche spesso Mangia, mangia Ci sono altri gusti Quindi avete l'imbarazzo della scelta Ero curioso di provare questi cioccolatini sfusi Magari sono alla qualità Ma sono belli Carino Tutto a scacchiera E si vede la sfumatura Verde Verdigna Ma questo è quello after eight Del no, no No, è quello col cocco kiwi Il cocco kiwi Ma non c'entra il kiwi L'assaggio Mi sento odore di cocco già Mi piacerebbe molto Non lo assaggio, lo sai Non so Dentro È un gusto un po' acido Ma quindi c'è questo kiwi Secondo me c'è il kiwi C'è l'ananas E questo qua è un cioccolatino Al Pignacolada Anche se c'è scritto Cocco yogurt Il Pignacolada è l'unico Alcolico che bevo Mi piace Vabbè Mi fa piacere Guarda che c'è Il giallo dell'ananas E il verde dei Ipotetici kiwi Mi piace Buono Dei gusti Guarda Il salto sciroppino dentro E fuori Ma passiamo all'altra Che magari lo assaggio Dai Buono Sì dai 25 centesimi Ok Faccio presente che abbiamo appena mangiato Un mezzo chilo di pop corn Del video precedente C'è sempre spazio per i dolci Ecco Questo mi interessa Questo Ha proprio i pezzi di cono dentro Fusi nella Struttura Interessante Ha un Razzo Disegnato su Perché Chi lo sa Ma sei sicuro che sia un razzo Prova girarlo Perché secondo te cos'è Non lo so È sempre un razzo Anche se lo giro Qua torna su No Qua va sempre giù No Giù dall'altra parte E ora va su di nuovo Va bene Va bene Allora Mentre decidi Passa Questo non ha cremine particolari Però il gusto Del After 8 Buono Buono Ma in realtà si sente Sì sì Veramente bene Oh che pezzettone Tieni Sono già l'ultimo pezzo Costano un po' ma Sono una goduria No questo Guardate che pezzi di cioccolato Caspita Vabbè Un video così Tanto per riempire Cosa devi riempire La tua pancia Anche Va bene Ciao Ciao Lo vedrete anche questo In Giappone Ma noi tra un po' ce ne andremo Quindi niente Mangiamo del cioccolato vero italiano Esatto O svizzero Che è anche un po' ma Ne? Beh anche queste sono belle scoperte Però Va bene Eh Saluta a tutti Ciao 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 Ciao